Un saluto dall'ATG della mobilità. Sino al 7 di agosto, lavori sui binari tramviari di Viale delle Milizie. La linea 19, la linea tramviaria 19, è sostituita da bus navetta tra Valle Giulia e Piazza Risorgimento e altre 10 linee sono deviate. Le altre notizie a Casalotti, lavori di manutenzione straordinaria su via di Santa Seconda, sono tre le linee di bus adeguate 028, 905 e di notte la N904. Infine, Rete Ferroviaria Italiana ha fatto sapere che per dei lavori di potenziamento ad agosto sono previste modifiche alla circolazione sulle linee FL4 tra Ciampino e Frascati ed FL6 tra Ciampino e Colleferro. Grazie